Gli obiettivi della fondazione sono fondamentalmente fare in modo che accada una società più giusta, più inclusiva e più sostenibile. Noi abbiamo scelto tre parole per definire il nostro impegno filantropico, sono inclusione, sviluppo e territorio. Lavoreremo sui territori delle aree interne, montane e periferiche, alla creazione di opportunità perché questi territori si sviluppino, ovviamente in sinergia con altri soggetti, in modo tale da ottenere maggiore inclusione. Faremo dei programmi formativi, faremo delle iniziative di incubazione di impresa sociale, faremo delle iniziative di bandi erogativi rivolti soprattutto al terzo settore. Ecco, il primo bando è già stato lanciato e mira proprio a questo, si chiama Prossimi. È un bando erogativo rivolto al terzo settore, possono partecipare quindi associazioni cooperative, soggetti, enti del terzo settore che si occupano di sociale e di cultura. L'idea è stata di contribuire alla ripartenza in quei settori che maggiormente sono stati infragiliti. Non sono gli unici perché la crisi ha colpito tutti e tutti i settori, però abbiamo deciso di lavorare sul sociale, sulla cultura e sui territori montani per favorire la ripartenza. Il bando è partito, come si può partecipare e quando scade soprattutto? Quanto tempo c'è per partecipare? Quali le modalità? Il bando è partito, scade il 22 giugno alle 17, si partecipa dalla piattaforma informatica alla quale si accede dal sito www.fondazionetime2.it, si carica la propria proposta progettuale e poi una commissione valuterà a quali proposte contribuire.